La scuola La scuola Cambia la tecnologia e cresce la passione per il laboratorio audiovisivo scolastico dove i ragazzi imparano concretamente un mestiere e vestendo i panni di videoreporter si fanno cittadini attenti e critici. Se non ci fossero questi vari laboratori con la teoria sapresti leggere ma dopo con i laboratori sai anche come lavorare e sai a che cosa vengono. Dentro la telecamera c'è Massimiliano, 19 anni. Loro tre è una casa per documentare un fatto cittadino la campagna di sensibilizzazione ideata dal comune di Castelfranco per promuovere il restauro delle antiche mura. Vediamoli all'opera. Come è nata l'idea della sensibilizzazione delle mura di Castelfranco? Un'idea dell'amministrazione pubblica di Castelfranco Veneto che ci ha contattati. Allora anche noi facciamo l'imbocca al lupo ai nostri futuri colleghi professionisti.